Allora, chiamo a questo punto l'ultima terna di speaker Claudio Gubitosi, presidente di Gifoni Experience, Mario Amura, CEO di FLEI e Sebastiano Deva, independent artist e CEO di Uptripper Emotional Experience. Conto molto su di voi che siete start-upper, che siete abituati quindi a descrivere quello che fate in pochi secondi. Grazie, eccomi qua, cercherò pure io di essere veramente veloce, anche se da stamattina che sto seguendo anche l'altra sala mi sono riempito di tante novità, tante notizie, ho ascoltato con piacere Rosanna, anche mia direttrice di riferimento alla Regione, l'assessore Matera, un po' tutti. Gifoni, insomma, penso che voi sappiate bene che cos'è, dove sta e Gifoni quest'anno compie 50 anni di storia. Però, perché sto qua? Sto qua perché posso, per esempio, visto che lo faccio esattamente da 50 anni, all'età di 12 anni e quando non si parlava né di virtuale, né di reale, né di digitale, non c'era niente, io penso e credo, e oggi lo posso dire con una certa convinzione, che Gifoni era già digitale in un mondo analogico, nel senso che quella che noi adesso chiamiamo la realtà aumentata, bisogna vederla anche in un piccolo paese, oltre le montagne. Bisogna dare un'idea a tutti quei mondi che non si conoscono, superando eventualmente tutte le difficoltà. Sotto certi aspetti, a proposito di start-up, credo che sia stata una delle prime start-up, partite dal niente, dal nulla, però l'intuizione analogica, passata al digitale, che è questa stata una delle più grandi sfide in assoluto, e ancora c'è questa sfida, ha permesso all'idea di Gifoni di vivere il mondo, ma soprattutto di portare il mondo in quel piccolo paese. L'altro concetto che io ritengo sia fondamentale per capire meglio Gifoni, nasce nel 71, però ancora oggi è un'idea isisolta, è un qualcosa che meraviglia e stupisce pure me, perché senza paura distrugge e ricostruisce. Quindi tutto quello che il digitale ci dà l'opportunità, che non è soltanto tecnologico, io vivo ancora e soprattutto prima di fare qualsiasi cosa in questo fantastico mondo della creatività, ci ha messo nelle condizioni di fare tre grandi processi. Tre. Per anni Gifoni Film Festival, fino al 2009. Era troppo stretto il percorso, stretto il vestito, incapace di far leggere e di dimostrare le capacità di impresa di un'idea. E sottolineo impresa, perché spesso, non solo nella nostra regione, ma da qualsiasi altra parte, pure in Italia, le attività culturali non sono state mai vissute come una impresa culturale. Quindi, 2009, finisce l'epoca del festival, viene inglobato la grande potenza dell'idea di festival, di partecipazione dal basso, milioni di ragazzi, famiglie, conoscenze in ogni parte del mondo, lo metto da parte perché ve lo rispambio che lo conoscete, per essere chiuso in un altro grande processo di trasformazione digitale. Gifoni Experience. E come tutte le idee, hanno una vita e una morte. Experience ha fatto la sua parte e alle soglie dei 50 anni, cioè adesso, 2020, Gifoni c'era per 50 anni, ho salutato Experience per aprire il posto, per spalancare le porte, ad un altro grande concetto che Gifoni Opportunity. Se andiamo ad analizzare tutte e tre queste cose, questi processi che ci sono voluti 50 anni per poterli affermare, ci rendiamo conto di quanto Gifoni sia diventato innovativo da sempre. Ha sfidato tutto e tutti in un piccolo paese. Un brand noto in tutto il mondo, Gifoni Ragazzi 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 Gifoni, oppure festival immediatamente, dove arrivano a Gifoni da 60 nazioni, dove abbiamo un hub nei Balcani, a Doha, in Qatar, in Brasile, in Canada e via di seguito, e allora bisogna avere paura delle sfide. Assolutamente no. Anzi, le sfide sono veramente la parte più importante di uno che una ne fa e c'è ne pensa. Voglio usare questo termine che ho sentito prima. Allora, ma questo non bastava. la distruzione del concetto del solo festival ci ha portato, per esempio, sette anni fa, sette anni fa, e pensate, se un festival del cinema può fare una cosa del genere, ad aprire Gifoni Innovation Hub, uno dei poli innovativi, tra l'altro più qualificati, tu lo conosci, d'Europa, dove alcuni miei ragazzi sono stati presi anche in fondazione. Importantissimo. Ho creato Resa e Sistema. Quest'anno dove ho presentato Gifoni? Conferenza Stam, non ne faccio più. Innovazione, digitalizzazione, elementale. Dove? Al museo di Pestum, a proposito di musei. Perché? Perché sono partito da una cosa, che ha Pestum, tra le tante cose belle, a parte che si chiama territorio, facciamo rete e sistema con il territorio, il tuffatore. Perché il tuffatore? Quello sappiamo che c'è, ma non sappiamo dove si tuffa. Si tuffa sicuramente in un mondo che non conosciamo. E quello è il segno di Gifoni. Siamo andati lì, è stato realizzato perfino un film, e vi anticipo, con piacere, che l'anno prossimo il progetto di Gifoni, Rosanno, presenta a Velia. Allora, vedete che significa antico, futuro, presente? A Velia. Il pensiero, no? Di nuovo, la filosofia delle idee, che si uniscono in un modo straordinario, non solo alla capacità, che noi dobbiamo, e al dovere che noi abbiamo di vivere e di condividere le esperienze del nostro territorio. Ma nello stesso tempo, il mio territorio mi dà l'opportunità di andare oltre Velia, la scuola Eleatica, Parmenide, e via di seguito. Quindi, potremmo, diciamo, continuare, alla fine, Rosanna, a proposito, come animale strano, sull'arca, centriamo immediatamente, pure noi, perché abbiamo centomila, più di centomila foto. Il Gifoni è un patrimonio oltre centomila foto, e migliaia di ore di video. Dal 1973, è stata la prima immagine dedicata a Gifoni, ma lì non sono solo foto del festival. Attraverso quelle foto si vedono i costumi, le abitudini, come è cambiata la società campana, regionale, nazionale, internazionale. Quello è un patrimonio incredibile che metteremo poi noi a disposizione. Noi, tra l'altro, guardiamo ogni anno il mio team, vedete che significa andare avanti? Il mio team, quasi 4.500 film. Bene, una domanda. E dopo? Le prendiamo una parte di questi film, li mettiamo relativamente al cinema, in competizione, e finisce lì. E dopo? Ma vi rendete conto che abbiamo un patrimonio di 4.500 film unici al mondo, dove, a settembre, possiamo rendere utile quelle ricerche? il sesso, per esempio, nel cinema per ragazzi, la butto così. L'emigrazione, come vengono vissute? I giovani autori, come sono cambiati dall'anno scorso a due anni fa? Perché abbiamo tutti questi dati. Quindi diventa un grande strumento a servizio delle università, dei network televisivi, dei produttori, che vorrebbero produrre, ma dovrebbero avere una linea sulla quale noi siamo in grado di potergli naturalmente dare. A proposito poi di questo, è un po' una canzone che canto e mi dovete perdonare. Lo dico perché mi sento forte anche alle responsabilità per esempio sugli eventi della mia regione o sulla cultura in generale della regione e dell'Italia. Io credo che uno dei più grandi sforzi che colleghi o semicolleghi o persone che nella vita in campagna o altrunde si sono dedicate alla cultura debbano fare una cosa, un grande sforzo. Il grande sforzo se riescono a farlo e qui si capirà di che cultura parliamo di passare assolutamente dal concetto di programma al concetto di progetto. Ogni idea deve essere un progetto culturale. Gifoni non potete parlare di programma a cento progetti in un mega progetto. Allora ci siamo e incominciamo ad essere impresa, ad essere utili, a produrre, a dare la possibilità agli altri di vivere più esperienze messe insieme. Questo è un altro grande lavoro. Io spesso su questo sono incompreso. Sono incompreso perché non si capisce per tante cose che cosa è Gifoni. Io credo però che molti non vogliono comprendere che cosa è Gifoni perché è questo. Cioè questo sforzo che dobbiamo fare credo che servirà assolutamente a tutti. Si è creato quindi questo polo Gifoni, sono felice di questo. A proposito di cultura e chiudo, voglio fare una battuta. lo sappiamo tutti che cos'è la cultura, lo sappiamo tutti quante aziende culturali, lo sappiamo tutti quanto è importante il PIL, nel PIL nostro, regionale, nazionale, la cultura, il turismo, tutto quello che succede. Ma siamo sicuri che l'Italia e noi stessi ami veramente la cultura e capisca qual è il grande patrimonio. Il nostro ministro della cultura è contemporaneamente finanze, tesoro, tutto, tutto quello che è il 90% dell'economia nazionale. La butto così. Ebbene, fateci caso, quando gira un ministro, qualsiasi altro ministro, almeno 4-5 macchine, tra polizia, finanze, queste cose, quando gira il ministro della cultura, nemmeno una macchina della polizia locale. Questo a far capire certe volte quanto noi siamo incapaci. Il ministro della cultura dovrebbe camminare con i carri armati per essere difeso. Perché questo è il segno di un paese che dà, io la butto così per farvi capire che certe volte anche questi piccoli segni non sono da leggere in positivo, sono da leggere in negativo. Il ministro della cultura è la persona più importante che teniamo in Italia. Grazie. Grazie.